Labro è un piccolo meraviglioso paese al confine tra Rieti e Terni a circa 20 km da Rieti e, a 26 da Terni, arroccato su una collina a 628 metri di altitudine. Al borgo di Labro si accede attraverso Porta Reatina, naturalmente a piedi percorrendo stradine di pietra. All'interno del paese ci si imbatte in altre tre porte incastonate nelle mura dalle quali partivano, le tre arterie che conducevano ai luoghi cardine dell'abitato. Una di queste porte immette a Palazzo Nobili Vitelleschi, residenza privata spesso aperta ad usi pubblici, al cui interno è possibile ammirare un arredo ben curato ma anche l'archivio completo della famiglia. Continuando a salire si arriva nel punto più alto del borgo, dove si può ammirare buona parte della vallata Reatina e la lama d'acqua del lago di Piedilucco. Qui oltre all'antica torre e ad un tappeto d'erba si trova il piccolo teatro comunale, sede di raffinate rappresentazioni.